Lo vedete questo signori? Beh, questo è assolutamente il futuro del gaming su mobile. In realtà è il presente, perché ce l'abbiamo già qui ed esistono da anni, ma essendo che io l'ho scoperto adesso, avendolo comprato in un'offertissima a 4 euro su Gearbest, visto che avevo un coupon, per me è un'assoluta novità. E' una cosa che assolutamente voglio mostrarvi. Estratto dalla scatola molto velocemente, ha questa forma. Molto carino, come vedete, e compatto. E' la seconda versione, questa è una versione potenziata, come vedete abbiamo i tasti dorsali e soprattutto i tasti multimediali davanti. La versione prima era più piatta, più comportatile e la potevi ficcare in tasca. Ma visto che va sicuro che non è affatto una cosa da ficcare in tasca, io vi dico che questa versione è assolutamente definitiva. Non sto qui a dirvi i tasti che possiede, perché li vedete benissimo anche da voi. Abbiamo due pad analogici che funzionano veramente molto bene, anche con il tasto L3, R3, come li chiamo io, da PS3. E abbiamo anche i tasti multimediali qua sotto, che ci permettono di andare avanti e indietro con la musica e fermarla. Il tasto home, quando lo collegate, non serve assolutamente a una sega. Come vedete qua su abbiamo un gancio che ci permette di fare cosa principalmente? Ci permette di agganciare un telefono a mo' di console. Ovviamente ha dei limiti, non è che potete ficcarci un tablet, però come vedete un telefono di medie dimensioni, tipo questo, da 5.5 pollici, è veramente perfetto e vi permetterà di avere una console a portata di mano. Per collegarlo ci basta semplicemente tenere premuto il tasto home e la X e lo vedremo lampeggiare. Dal telefono attacchiamo il bluetooth e come vedremo la connessione partirà in automatico. Ora è connesso, possiamo avviare il nostro emulatore o comunque il nostro gioco, anche se io comunque vi consiglio di usarlo con l'emulatore e poterci giocare senza nessun problema. Come vedete è molto comoda la gestione dell'audio direttamente da qui, per il semplice fatto che non dobbiamo andare ad usare il touchscreen ogni volta. Ma ora andiamo a vedere un po' di giochi. E' un po' di giochi. Come vedete abbiamo un parziale controllo anche del sistema, ma vi assicuro che se il telefono non è in modalità landscape difficilmente andrete a godervelo. Io posso comunque dirvi che questo controller è veramente buono se volete trasformare il vostro telefono in una console, ma ovviamente per giochi decenti sul gamepad serve una certa potenza e quindi su un telefono magari più datato o non proprio top di gamma potreste non avere l'esperienza che cercate. Ma in ogni caso il lavoro fatto su questo controller è veramente veramente ottimo. Per questa recensione io vi lascio qui e ci vediamo alla prossima.